Questo non è il primo centro vaccinale che visito e devo dire che la sensazione è sempre la stessa. Nelle precedenti occasioni, come in questa occasione, ho trovato delle strutture assolutamente belle, organizzate molto bene, con una logica nell'evoluzione dell'assistenza delle persone che devono essere vaccinate. Con, soprattutto, ed è l'aspetto che voglio sottolineare di più, volontari, addetti sanitari, medici che hanno disponibilità, entusiasmo, gentilezza, capacità e che fanno sentire i cittadini assolutamente a loro agio e anche un po' coccolati. La situazione è che ieri abbiamo dato una prima accelerata e siamo passati dai 54, 55, 56, 65 e senza alcun tipo di difficoltà. Abbiamo le condizioni per salire sopra i 100.000, appena ci fosse la disponibilità dei vaccini saliremo. È una situazione che assolutamente, con un'ottima organizzazione, il centro è già aperto dal 23 di marzo ed è organizzato per una piena funzionalità. Oggi la funzionalità è un attimo ridotta per la causa del numero di vaccini, quindi ci auguriamo che arrivino presto i vaccini promessi dal governo in modo da poterlo mettere a regime, ma questa è una caratteristica che riguarda tutti i centri vaccinali. È un centro che è particolarmente all'avanguardia a livello di organizzazione, non ci sono mai avute particolari problematiche. Tra l'altro è stato visitato anche il giorno dell'apertura direttamente dal coordinatore Guido Bertolaso, che si era reso conto dell'ottimale organizzazione. La situazione dell'Udigiano rispecchia la situazione lombarda, nel senso che a livello generale c'è una situazione molto omogenea e questo significa che il piano che era stato studiato sta funzionando perché era un piano con determinate regole da poi calarsi rispetto alle diversità territoriali in considerazione di quanto la Lombardia sia grande e sia diversificata tra i vari territori. La regione è sempre presente, sempre una grandissima attenzione ed è sempre positivo, importante, soprattutto qua, lo si vede qua in la resta realtà di Codogno, che è simbolica, particolarmente toccata l'anno scorso per il Covid, il grandissimo ruolo e il lavoro della protezione civile. Qui anche a causa dell'emergenza Covid la protezione civile ha avuto un ottimo incremento a livello di partecipazione con nuove leve, tanti giovani, tante donne e tanti professionisti che durante il lockdown hanno messo a disposizione le loro competenze, prima affiancandosi alla protezione civile e poi entrando con i necessari corsi nella protezione civile. Un numero importante che appunto si rivede qui in questo centro vaccinale.